Frase tarologica per l'amica Gioacchina, che dopo la sua escrezione alla nostra newsletter è stata estratta per ricevere questa frase tarologica. Voglio ringraziare anche Gioacchina perché è un utente molto attivo, che ci aiuta a capire alcuni bug del sito internet, del laboratorio. Insomma, lei sa tutte le volte che mi ha aiutato e ci ha aiutato a risolvere determinati problemi. Grazie Gioacchina e adesso concentriamoci per questa frase tarologica, che è per te, e solo per te, nella speranza che ti possa aiutare. Allora, la prima carta estratta, la forza. L'innamorato Il mondo La forza è con lei che gestisce le situazioni, il leone della forza invece sta guardando in alto, sta guardando l'angelo dell'innamorato che è un angelo giovane, a differenza dell'angelo del mondo, che è un angelo adulto. Quindi tu devi gestire e rinforzare anche con determinazione il tuo lato emotivo. Soprattutto se sei un po', tra virgolette, immatura sotto questo aspetto, è arrivato un ciclo di vita in cui sei chiamata ad equilibrare questa forza. Inoltre, non chiuderti in te stessa, frequenta gruppi, comunica con gli altri, anche le stupidate, anche cose poco serie. Grazie Gioacchina per la tua iscrizione alla nostra newsletter, spero di esserti stato utile per progredire lungo il tuo percorso di ricerca spirituale. Grazie Gioacchina per la tua iscrizione alla prossima.